Se da una parte le tecnologie offrono sempre più possibilità a noi giovani, comunque a tutti, è anche vero che la privacy dell'individuo va scomparendo, ad esempio io non mi sento sicura ad inserire le mie informazioni su piattaforme come ad esempio anche Facebook o a sapere di essere sempre seguita tramite GPS.